Quella è la macchina magica! Abbiamo poco tempo! Serve un elemento di distrazione! Come regalo di Natale voglio due per due! Oh, accidenti! A forza di provarci, prima o poi ci riuscirò! E prendetelo! Vanno tanto! Stop! Ah! Oh! Ah! 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 Ah, 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 ah! Ah, l'enorme quantità di corrente provoca una fissione sugli isotopi instabili e indeterminati. Devo escludere la fonte d'energia ora. Ah! E fai così! Più sono grossi e più fanno rumore! No, povero me! Devo rassicurare gli elfi che Babbo Natale sta bene. Li saluti con la mano! Sei un vero portento, Ben. Oh, no! No, non funziona! Camina!